Spazio al nuoto paralimpico a Napoli, presentati alla sala giunta di Palazzo San Giacomo i campionati italiani assoluti e stili. Giunti alla 36esima edizione, si terranno dal 12 al 14 luglio alla piscina Scandone di Fuorigrotta, con la partecipazione di 200 atleti per 55 società iscritte alla Federazione Italiana. Tra questi anche gli atleti che rappresenteranno l'Italia e i mondiali paralimpici di Monreal il prossimo agosto. Ancora una volta Napoli protagonista dello sport mondiale, dopo la Coppa Davis e l'America's Cup, per affermarsi sempre di più nel panorama internazionale, come ricorda l'assessore allo sport Giuseppina Tommasielli. Un'occasione importante nella nostra bella piscina Scandone, che ricordo sempre è la seconda piscina d'Europa come importanza e che noi ovviamente manuteniamo da un anno all'altro e che adesso venga messa a disposizione per questo importante evento. Per noi è un bel evento.